ciao bentornato oggi parleremo di filtri epa questo benedetto filtro epa del quale probabilmente hai sentito parlare tantissimo visto che se lavori in un laboratorio ad esempio biologico con cappe biologiche o cappe by hazard sicuramente ne hai sentito parlare ma spesso e volentieri questi filtri epa si sente ormai parlare perché anche nel campo per esempio dell'automobile si inizia a sentire parlare di questi filtri in realtà li chiamano like epa non sono i filtri epa che hai montati tu sulle cappe perché ci sono un po di differenze in realtà da quello che mi risulta l'unica macchina che attualmente monta dei veri e propri filtri epa è la tesla così a carattere informativo però ecco siccome si inizia a parlare spesso e volentieri probabilmente sei rimasto fermo bloccato con la macchina nella tua città o soprattutto se come noi abiti a roma che non puoi utilizzare il veicolo in determinate fasce orarie e quant'altro questo a causa delle famose pm10 quindi quello che è il particolato quindi il pulviscolo che in una concentrazione troppo elevata ovviamente non non un pulviscolo normale un pulviscolo sollevato da quelle che sono polveri sottili che possono creare delle difficoltà in concentrazioni elevate devono essere appunto abbassati i livelli e quindi vengono bloccate quelle che sono le automobili all'interno del dei veicoli giusto per finire questo piccolo scenno si parla di a volte filtri antipolline in realtà ecco ripeto questi filtri vengono chiamati like epa trattengono oltre al polline anche altro noi abbiamo fatto anche dei test su dei filtri delle macchine e ci siamo resi conto che effettivamente questi filtri trattengono tantissime sostanze abbiamo visto che parlando in termini biologici quindi di unità formanti colonia ce ne erano veramente migliaia e migliaia quindi questo come dato informativo perché noi ci piace un attimino spaziare e capire un po di quello che stiamo parlando ovviamente scendendo di nuovo e tornando a bomba su quelle che sono invece le cappe biologiche e molto di più quelle by hazard mi interessa parlare proprio delle cappe by hazard nello specifico i filtri epa è un qualcosa che è obbligatorio ci sono alcune domande che spesso mi vengono fatte quando si parla di filtri epa c'è un articolo che tu troverai su www.kizard.it è spiegato molto bene ci sono risposte a parecchie domande ci sono alcune domande tra cui una di queste è regolamentato il fatto di dover cambiare filtri epa sulla propria cappa con una determinata cadenza piuttosto di risposta no assolutamente no non c'è un termine che vi viene indicato dalla normativa che può essere annuale biennale a tre anni a cinque niente di tutto ciò ci sono delle indicazioni indicazioni date dal costruttore dei filtri in genere o dal costruttore anche della cappa stessa che chi parla di 5.000 che 8.000 ore i costruttori parlano di cinque anni quelle dei filtri ci sono una serie di cose ma non c'è una vera regolamentazione che dice impone a qualcuno di dover per cambiare i filtri epa lascia ovviamente questo discorso si spazio a tantissime interpretazioni ma il mio appunto interesse quindi questo video e l'articolo che ho scritto serve appunto per andare un pochino più a fondo cioè da questo punto di vista quindi è vero che non c'è una regolamentazione e noi non siamo per il cambio di filtri epa così ogni due tre come caramelle per tanti aspetti anche per nostra stessa tutela per tutela di quelli che sono i soldi del cliente e anche tutela dal punto di vista logistico lavorativo di quello che può comportare quando si va aprire una cappa appunto di tipo by hazard perché ti dico questo perché se non c'è una reale esigenza non cambiamo il filtro epa punto cioè senza giri di parole se l'hai inserita all'interno del tuo documento di valutazione dei rischi piuttosto che procedure hai inserito il cambio dei filtri ogni anno ti dico che a mio parere c'è qualcosa che non va ogni due anni c'è qualcosa che non va tre anni c'è qualcosa che non va i filtri epa sono fatti per durare e controtendenza a quello che può sembrarti probabilmente spesso hai sentito parlare di filtri epa intasati spero non troppo dalla tua assistenza tecnica che ti ha detto che ti ha cambiato magari il filtro epa perchè hai intasato diciamo che questo è parzialmente vero ma se non viene spiegato bene il motivo probabilmente lascia un po' anche qui spazio alle interpretazioni il filtro epa col tempo si intasa quindi abbiamo detto che trattiene il pulviscolo il particolato anche in nanoparticelle perché sono in genere sulle cappe vengono montati filtri epa del modello h14 tipo h14 ci sono cappe che montano anche filtri ulpa possono montare ulpa è un qualcosa di in più nel senso sono gli h15 andiamo sull'ultra è un qualcosa dove veramente magari è con l'utilizzo per esempio io lo consiglierei in un momento in cui c'è l'amianto e con delle particelle dove vogliamo un'efficienza incredibile l'h14 ha un'efficienza 99,995% e l'ulpa è qualche quindi in realtà siamo vicinissimi al 100% devi immaginare che più passa il tempo e più questi tuoi filtri epa diciamo prima si intasano quindi questo è vero perché ovviamente passando il flusso all'interno di quello che è il tuo filtro epa che poi in genere se parliamo una cappa a flusso verticale ad esempio questa aria che viene presa sul fronte parliamo una cappa by hazard classica classe 2 con un 30 per cento di aria in ingresso un 70 per cento che viene ricircolato e un 30 per cento che viene espulso all'esterno il 70 per cento che viene ricircolato all'interno passerà quindi all'interno del tuo filtro epa dandoti poi quel flusso laminare verticale che è importantissimo e fondamentale per la sterilità del prodotto che si andrà a manipolare quindi per la sicurezza del prodotto la barriera frontale quindi questo 30 per cento solamente che viene in ingresso non di più non di meno 30 per cento serve appunto perché c'è la barriera frontale quindi l'area che è all'esterno della cappa è inevitabilmente contaminata piena zeppa di particelle dovete pensare che i primi a creare le particelle siamo noi se vi muovete o lavorate per parecchio quindi state sudando state siete sotto stress e quant'altro vengono generate sempre più particelle comunque in linea di massima l'ambiente esterno ha milioni di particelle se non miliardi nel contesto in cui ci si è insomma con più persone porte e finestre aperte dentro la cappa è zero zero spaccato quindi la verifica conta particellare sotto la vostra cappa darà risultato zero questo è efficacia reale di quello che è il filtro epa diciamo però che tutte queste particelle non è che non entro perché il 30 per cento quindi milioni di particelle vengono prese dall'esterno e portate all'interno vengono però filtrate dal vostro filtro epa quindi vengono si vanno a depositare all'interno di quello che è il filtro nella strada superiore e all'interno di quello che il filtro quindi che succede che man mano che passa il tempo il filtro in realtà si intasa è vero che si intasa ma non cambiamo il filtro epa perché si intasa perché nel momento in cui si intasa il filtro va a generare una maggiore efficienza di filtrazione non sto scherzando è proprio così nel momento in cui se guardate l'articolo del filtro appunto di cui parlavo ho messo mi sembra una foto dello scolapasta di un colino del lavandino in quel contesto l'ho messo apposta proprio per far capire cioè se il colino del lavandino se è sgombro tutti i pori sono liberi l'acqua passerà tranquillamente nel momento in cui andiamo a tappargli quelli che sono dei dei buchi dei fori ovviamente l'acqua ci metterà di più più tempo a defluire no perché perché in automatico il sedimento che c'è che diciamo primario va ovviamente a ostacolare altro pulviscolo nel caso nostro di filtri epa in questo caso cibo quello che è che va nell'ogno e quindi in automatico l'acqua verrà sempre più filtrata per assurdo ovviamente in questo contesto cambia leggermente perché perché l'acqua nel lavandino deve defluire per solamente quella che può essere la forza il peso dell'acqua che che va giù nel quello che è lo scarico mentre invece nella cappa voi avete un motore che aspira quindi diciamo tra le due cose non avete non c'è una grandissima preoccupazione perché il motore in automatico ormai sono cappe tutte automatiche quindi si vanno a regolamentare da sole andrà a generare un flusso maggiore e spingerà l'aria in un contesto di un flusso maggiore in modo tale che la vostra filtrazione sia sempre efficiente la velocità dell'aria sia quella corretta che vi serve a voi sul piano di lavoro e voi non vi accorgete di nulla e il vostro filtro sta funzionando perfettamente anzi filtra ancora di più quindi ecco perché vi dico l'intasamento non è uguale sostituzione perché ci sono problemi assolutamente no ma che vuol dire questo non cambiamo mai filtri epa assolutamente no non mi dovete fraintendere non mi devi assolutamente fraintendere su questo il discorso del cambio filtro deriva da quello che è una serie di accorgimenti perché si cambia in genere si cambia per un discorso primario di di quello che può essere la prevenzione cioè per quello che ti ho detto prima mentre è vero che la cappa si va a autoregolare quindi il motore va aumentare quella che può essere la sua velocità in termini di velocità dell'aria ma dall'altra parte potrebbe essere anche che va iniziare andare un po più sotto sforzo quindi con conseguenti che cosa per esempio rotture di quello che può essere il motore su riscaldamenti ci può essere sempre un risparmio energetico nel momento in cui uno cambia il filtro rispetto a quando il filtro è intasato questo è da valutare quindi il cambio del filtro assolutamente è da fare e va bene nell'ottica di prevenire ecco l'importante è sapere le cose non cambio il filtro perché è intasato e quindi oddio mi metto a rischio e si creano allarmismi inutili che spesso e volentieri appunto devo andare un attimino a sanare come se bisogna correre perché la la sterilità del prodotto viene meno o l'operatore si trova in una situazione di mancata sicurezza assolutamente non è per questo se ovviamente è tutto a posto e stiamo parlando solamente di intasamento in questo contesto qua diverso è se ti trovi una contaminazione sul piano di lavoro magari ti trovi una contaminazione sul piano di lavoro tu stai lavorando nel miglior modo possibile porte finestre tutto chiuso condizionatori che non sparano sulla cappa cioè sei sicuro che stai lavorando nel modo corretto il tuo manipolare non è un introdurre all'interno e forzare quella carabella frontale quindi stai lavorando bene ma nonostante tutto ciò ti trovi il lavoro contaminato a questo punto potrebbe essere un buco su quello che è il filtro epa assolutamente quindi i filtri epa vanno sostituiti si possono sostituire si devono sostituire ma con cognizione di causa ecco perché sicuramente avere un'assistenza che sia consapevole che sia in linea che sia sensibile anche a determinati aspetti sicuramente potrebbe aiutarti agevolarti nel capire quando cambiare quelli che possono essere i filtri perché spesso e volentieri si fa un discorso di massa si fa un punto zero dove a tre anni a quattro anni a cinque anni tutti insieme i filtri diciamo che io direi vediamo caso per caso se quella cappa viene utilizzata piuttosto che no perché per esempio ci sono cappe che fanno pochissime ore di lavoro e il filtro epa visto che parlava appunto di trattenere quello che è il pulvisco nel momento in cui non lavora così tanto magari non serve cambiarlo così spesso ovviamente entrano in gioco anche altri fattori magari se uno di quelli che lascia acceso il neonuvì tutta la notte cosa sconsigliatissima che non serve assolutamente a nulla oltretutto questo potremmo andare a seccare quelli che sono ovviamente per esempio le guarnizioni del filtri epa i filtri epa comunque sia hanno e sono creati con dei materiali nel tempo a distanza di x anni si potrebbero venire appunto a seccare quelle che sono le guarnizioni piuttosto che perdere un po' quelli che la l'aderenza dei collanti e via via dicendo quindi come ogni cosa la manutenzione è primaria essendo il tuo dispositivo di protezione collettiva quindi la cappa da laboratorio cappa by hazard in questo contesto primario strumento di primaria importanza per te ovviamente sapere determinate cose ti può portare a agevolarti e a prevenire eventuali contaminazioni penso che il tuo lavoro sia sicuramente importante da questo punto di vista quindi a volte mi arrivano domande anche del tipo ma conviene cambiare i prefiltri anche se ci sono e sono presenti assolutamente sì il prefiltro in genere è lanafibra di vetro e questi prefiltri che sono molto più per le particelle trattengono le particelle più grossolane cioè molto più grandi ovviamente non arrivano all'efficienza dei filtri epa sono uno stadio però di prefiltrazione cambiare un filtro epa rispetto a cambiare un prefiltro io direi cambiate il prefiltro come ogni quanto potete cioè sicuramente almeno una volta all'anno il prefiltro è già un qualcosa di che costa ovviamente meno ma che vi può anche aiutare a tutelare nel tempo il vostro filtro epa e quelle che sono appunto questa fase diciamo questa situazione del risparmio energetico che molti diciamo non ci badano ma su tantissime cappe ma anche fosse una ma tantissime cappe e possa assicurare che il risparmio energetico nel manutenere la cappa nel modo corretto e avere una situazione diciamo più più accurata più attenta vi può fare un pochino la differenza ecco lì che quei soldi che uno pensa di non avere in realtà vengono spesi vengono spesi male un'altra domanda che mi viene fatta è ma chi può cambiare i filtri epa chi non li può cambiare possiamo farlo internamente tutto si può fare cioè facciamoci a capire anch'io c'ho mal di denti so che mi devo togliere un dente e ahimè metto la pinza prendo un qualche antidolorifico e mi tiro via il dente tutto si può fare ma se esistono dei professionisti che fanno solo questo che sono attrezzati per questo che hanno una sensibilità e studiano per questo si formano per questo e insomma fanno solo questo perché ovviamente poi questo scendiamo in dettagli un pochino un po più particolari del facciamo solo questo e non che facciamo di tutto e di più perché non affidarsi a quello che è appunto un'assistenza che fa solo le cappe chimiche e le cappe by hazard io questa domanda diciamo la giro al contrario quindi e sì chi li può cambiare e li possiamo cambiare da soli sì ma ti giro all'altra parte perché non farle cambiare un'assistenza tecnica il discorso del soprattutto parlavo prima di cappe by hazard la cappa by hazard in genere viene utilizzata per manipolazioni di potenziali rischi biologici quindi quello che stai manipolando potenzialmente potrebbe essere a rischio biologico che vuol dire vuol dire che se tu o lo fai fare alla manutenzione interna o a quello che fa i condizionatori che è più di cambiare il filtrino e dare un igienizzante così per quella che è l'aria e non ha la sensibilità di che vuol dire lavorare magari con un virus dell'HIV legionella salmonella o quello che è capisci da solo che forse non stai mettendo a rischio solo la sua vita e questo accade spesso e volentieri ma stai mettendo a rischio il tuo lavoro e la tua di vita perché sei nelle mani di chi? punto interrogativo quindi una cappa by hazard prima del cambio filtri è categorico e tassativo oltre che obbligatorio la decontaminazione di questa di questa cappa quindi inteso come tutte quelle che sono le superfici ma anche del filtro epa vano motore filtro epa espulsione quindi prima di mettere in mano e manipolare questa cosa questa fase diciamo che è importantissima noi in genere facciamo sia una fase prima di decontaminazione ma questo lo facciamo anche nell'ottica di verifica e validazione i nostri clienti che ci conoscono quando arriviamo sembriamo alieni perché ovviamente non hanno mai visto una cosa del genere i nostri standard sono elevatissimi perché non ci fidiamo non che non ci fidiamo nel nostro cliente non ci fidiamo in generale in precedenti video ho detto che spesso le cappe vengono movimentate magari una cappa che è appunto ad uso puramente praticamente by hazard dove il cliente dice che lavora con hv e quant'altro poi viene spostata in un reparto neonatale faccio sempre l'esempio dove vengono preparate pappette uno non pensa al rischio biologico lì noi la trattiamo come un rischio biologico altissimo sempre e comunque quindi i dispositivi di protezione individuali sono quelli massima protezione tuta ivec protezione guanti e quant'altro ma anche la parte pre cioè prima di toccarla i nostri tecnici vanno con una decontaminazione disinfezione totale della cappa dopo di che si interviene per fare anche solo quelle che sono le verifiche contaparticelle figuriamoci in un cambio filtri in un cambio filtri è tassativo obbligatorio fare la fase decontaminazione prima della sostituzione anche perché poi questi filtri vengono tirati fuori il pulviscolo che si è accumulato sui filtri nel tempo negli anni e crea a volte proprio degli strati come dei tappeti di polvere un po come possiamo trovare nelle vecchie case magari di una volta e da questo punto di vista se l'accortezza del tecnico non c'è potrebbe essere sbattuti prima di essere magari imbustati e scatolati e quant'altro e questo pulviscolo magicamente inizia a disperdersi nell'ambiente questo pulviscolo sicuramente è contaminato potrebbe essere potenzialmente contaminato quindi chi ne va a pagare le conseguenze il tecnico magari sto utilizzando i dispositivi di protezione individuale perfetti con maschere e quant'altro quindi sicuramente non si contamina ma questo pulviscolo che poi viene ripreso dalle bocchette di reazione e quant'altro chissà dove va a finire quindi ecco perché dicevo sì li potete cambiare da soli se volete farlo fatelo ma assolutamente lo sconsigliamo i produttori lo sconsigliano i costruttori con chiunque parlate non non ha senso non ha veramente senso fare una manutenzione su un discorso del genere non è un frigorifero ecco inteso in questo senso è un dispositivo di protezione collettiva trattatelo con il dovuto rispetto trattate con il dovuto rispetto voi stessi se non ti sei iscritto ti consiglio di iscriverti immediatamente al canale così da rimanere aggiornato condividere quelli che sono i video e commentarli ti ringrazio ciao